Un colpo piuttosto singolare, se non altro per i modi e per il mezzo scelto per la fuga, quello messo a segno stamani da un rapinatore solitario all'Agenzia del Monte di Lucca in via Fermi nell'area artigianale di Sant'Agostino a Pistoia. Un uomo armato di pistola, è ancora da stabilire severa o giocattolo, col volto travisato da una maschera di carnevale, è entrato nell'istituto di credito intorno alle 11.30 di stamani e si è fatto consegnare dai dipendenti tutto il contante, circa 8.000 euro, poi è fuggito verso il centro storico a bordo di una bicicletta. La scelta del mezzo piuttosto singolare lo ha facilitato perché ha potuto dileguarsi con facilità tra le stradine secondarie, evitando di rimanere imbottigliato nel traffico, che in quella zona è particolarmente intenso e caotico, soprattutto a quell'ora. Le indagini sono a cura dei carabinieri di Pistoia che sono intervenuti subito sul posto. L'uomo potrebbe essersi rifugiato in una tana sicura poco lontano dal luogo della rapina. Il rapinatore potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, i cui filmati sono adesso al vaglio delle forze dell'ordine.